Qual è il segreto per automatizzare il tuo business online? Allora, parliamoci chiaro, business automatici, rendite passive, guadagni automatici, queste robe qui realmente non esistono, o al meglio, non esistono a bassi livelli. Se hai 10 milioni investiti in azioni varie o in vari ambiti, allora ci credo che hai delle entrate automatiche, perché comunque se guadagni piccole percentuali, anche se non so, su 50 appartamenti hai una serie di persone che ti gestiscono gli affitti oppure hai un'azienda che lavora per te, allora sì, quella è un'entrata automatica, ma i guadagni automatici, business automatici, che spesso molte persone millantano, non esistono realmente. Una cosa che però si può fare è quella di automatizzare alcuni processi, specialmente quelli legati al mondo digitale, perché il digitale è fatto di 0 e 1, di numeri, di tecnologia, e la tecnologia ci viene in aiuto, ci viene in aiuto attraverso dei software che ci permettono di automatizzare dei processi, quindi far sì che una serie di azioni che altrimenti dovrebbe fare una persona manualmente, tu o qualcuno per te, le fa un software, quindi meno costoso, più veloce, istantaneo e automatizzato appunto. Quindi è un'ottima cosa. Ora, il software che io prediligo, che è anche quello che va per la maggiore, che la maggior parte delle persone utilizza, è Zapier, o Zapier, insomma, come il cavolo si dice, che è un software appunto che integra altri software e permette di automatizzare una serie di processi. Processi quali, per esempio, prendere i lead generati con delle Facebook Ads, estrarli in automatico da Facebook anziché farlo manualmente, metterli, non so, in un foglio di calcolo, Google Sheet, metterli, mandarteli via email, mandarli via email a te e ad altre persone, tipo il commerciale dell'azienda di riferimento e tutte queste cose qui. Altre cose che puoi fare con Zapier è, non so, mandare delle notifiche quando ci sono delle modifiche a un file, integrare i tool quali Slack, Trello, quindi quei tool che servono per la programmazione giornaliera delle attività, quindi per esempio, azione di ieri non è stata completata, la sposta in oggi Zapier, oppure arriva un'email con un tag specifico o viene modificato un file con alcuni tag specifici, con alcuni trigger, si dice, quindi degli eventi scatenanti, benissimo, allora Zapier fa un'azione, quindi non so, segnala in Slack che è arrivata una richiesta di, che ne so, di modifica da parte di un cliente e lo butta dentro la Slack. Oppure dobbiamo integrare tool di mail marketing, quindi per esempio la persona, estraggo i dati dalla lead generation di Facebook, li metto nell'autorisponditore, oppure nell'autorisponditore avviene una determinata azione e prendo quei dati lì e li sposto, li salvo dentro un Google Sheet, per esempio. Una serie di cose, oppure posso prendere quelli da un modulo di una pagina web di Optin, i contatti della persona, metterli in una specifica lista di un autorisponditore o spostarli in un'altra lista, cose del genere, insomma. In realtà ci si può sbizzarrire tantissimo, perché sono veramente migliaia le applicazioni integrate in Zapier. Vediamo subito un po' come si trova, come ci si iscrive, tutte queste cose qui, in realtà è molto banale. Ovviamente scriviamo Zapier per cercarlo su Google, che è il nostro e il tuo migliore amico, Google e YouTube, perché cerca lì sempre informazioni, tutorial e tutte queste cose qua. E clicchiamo sul sito ufficiale e entriamo subito. Questo è il sito, appunto, collega le tue app per automatizzare i tuoi workflow, quindi i tuoi processi e vabbè, poi tutti i pippozzi. La cosa carina è che c'è anche l'abbonamento gratuito con cui puoi fare veramente una caterva di robe, con un limite di 5 Zap, cioè 5 processi automatizzati, e su due, diciamo, azioni, però il pacchetto più basso, se non sbaglio, costa 25 dollari, qualcosa del genere. Vediamolo subito in pricing. Ah, sì, ok, 19,99, quindi lo starter è 19,99, è pure sceso perché mi pareva fosse sui 25, quindi meglio, e appunto ti blocca man mano una serie di cose, no? Quindi è molto comodo, con un prezzo comunque molto contenuto per le cose che puoi fare. Quindi, facciamo il login, io, vabbè, entro chiaramente con la mia Gmail, tu entrerai con la tua, o con Facebook, insomma, iscriviti con quello che ti pare. Eccoci qua, entro, e questa, diciamo, è l'interfaccia di Zap, quindi una dashboard con una serie di Zap che ci vengono consigliati, per esempio, ecco, da Save New Gmail Attachments, quindi ti arriva un'email, una Gmail con un allegato, lo salvi in Google Drive, oppure salvi le email che hanno una determinata, delle determinate caratteristiche dentro un Google Sheet. Invii le email da Gmail, tramite Gmail, quando viene aggiornata una riga su un Google Sheet, per esempio, quindi per fare delle segnalazioni. Vedi che qua ci sono, questi sono da 7 a 9, sono 3 Zap su 6245, di quelli solo consigliati, quindi ce n'è veramente, non so, genera un evento su Google Calendar, dà una nuova riga su Google Sheet. Questo perché è interessante, perché tu magari aggiorni la Google Sheet, la riga, dà un evento che si scatena da un'altra parte con uno Zap, e con l'altro Zap aggiorni e carichi l'evento su Google Calendar, su Slack o quello che vuoi. Oppure, non so, aggiungi le informazioni a un Google Sheet, dà un ebook post request, quindi su un sito determinato, per esempio su un modulo WordPress, avviene un evento, col ebook lo catturo e lo sparo dentro Google Sheet. Quindi ce n'è una caterva, veramente è incredibile quante cose puoi fare con queste integrazioni, anche Google Form, Facebook a Webber, quindi salvare da lead generation di Facebook a da Webber, cose del genere. My Apps, vabbè, qui trovi un po' di app che io ho già utilizzato, andiamo in Apps, possiamo trovare fondamentalmente tutte le app che sono disponibili in Zapier, cioè più o meno qualunque siasi cosa tu cerchi, la trovi, il che è molto molto comodo. C'è anche YouTube, ah questa non l'ho mai usato YouTube. Proviamo a fare uno Zap su YouTube. Dai, visto che dobbiamo fare uno Zap di test per vedere un po' come funziona, facciamo make a Zap, quindi andiamo a fare uno Zap e cerchiamo YouTube per curiosità e voglio vedere che trigger ci dà, quindi choose trigger event, dobbiamo scegliere degli eventi che avvengono appunto su un canale, su una cosa specifica di YouTube che poi dopo andremo a collegare gli account e tutto. Per esempio, un nuovo video, un nuovo video in un canale specifico, in un canale specifico, mentre, ecco, il nuovo video quando è caricato da un username specifico, mentre questo quando è pubblicato in un canale specifico, questo nuovo video quando è caricato un video che matcha una stringa specifica, quindi per esempio noi abbiamo magari delle keyword che vogliamo monitorare e possiamo far sì che in automatico ci vengano segnalati tutti i video che vengono pubblicati su quella nicchia in cui per esempio noi pubblichiamo video. Nuovo video in una playlist, quindi anche questo può essere interessante. Per esempio, io faccio un podcast, quindi potrei fare in automatico che quando aggiungo i video nella playlist del podcast facciamo Syncing to YouTube, entro, questo, consenti e continua. Perfetto, playlist ID io potrei andare a prendere, vediamo, questo è chiaramente un esempio per farti capire quanta flessibilità c'è con Zapier e poi ti vediamo anche degli esempi specifici per il marketing. No, sbagliato, non volevo YouTube Studio. Andiamo su questa playlist qua, quella del podcast e dovrei avere l'ID, playlist list, credo sia questa qua. quindi vado a pigliarlo e lo metto qua. Vediamo se me lo incolla. Perfetto, continua. Click any of the votes on test below e possiamo fare test. Perfetto. e ora dobbiamo scegliere un'azione. Quindi per esempio, facciamo una cosa semplice. No, non Gmail, ma facciamo, ah carine anche queste cose che escono fuori, facciamo una email, ecco email by Zapier, perfetto. Mi faccio mandare un'email quando viene aggiunto un video. anzi, 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 vediamo una cosa. Se c'è delete, re-delete, tac, new telegram. Vediamo se c'è telegram. Ah, telegram non me lo trovo, interessante. Allora facciamo email by Zapier. Continua. Mi faccio mandare un'email a me stesso quando viene caricato insomma un video su quella playlist. Nuovo, opla, nuovo video in playlist. Ostile, eh? E mi scrivo ciao Michele è stato aggiunto un nuovo video nella playlist del podcast. Il video è e perché scrivo questa cosa perché io posso aggiungere tutti i vari eventi che mi dà a disposizione il lo Zap. Infatti abbiamo un sacco di dettagli in questo caso. Nuovo video in playlist perché avviare un video. Ecco, questo è l'ultimo quindi il titolo del video o anche l'url. Quindi youtube.com url. Perfetto. Corri a guardarlo. Che ne so. a presto. Michele. Ora, chiaramente in questo caso io sto utilizzando un email by Zapier che in automatico lo va a mandare cioè un email specifica. Potrei anche aggiungere una serie di email qua volendo. La cosa figa quale sarebbe? Sarebbe quella di andare a prendere a collegarlo a un autorisponditore in cui ho una lista di email e le persone si iscrivono alla lista di email per restare aggiornate sui miei video. E io in automatico tramite lo Zap ogni volta che carico il video e lo metto dentro la playlist arriva una notifica a tutti. Questa potrebbe essere un'opzione molto interessante. Ora direi facciamo continua e mandiamo anche un bel test e continua. Andiamo su Gmail a controllare se è arrivato il nostro test. Eccolo qua nuovo video in playlist e ci dinka proprio l'ultimo video della playlist quindi tanta roba e ogni volta che aggiungiamo un video alla playlist in teoria dovrebbe appunto mostrarci mandarci l'email. Ora questo era un chiaro e veloce esempio di quanto è potente Zapper ma le potenzialità sono veramente infinite sia lato marketing sia lato gestione del tuo business puoi automatizzare veramente un sacco di processi quindi tanta tanta roba. Nella prossima lezione vedremo invece come automatizzare nello specifico la lead generation da Facebook quindi andiamo più nello specifico a vedere quello che è una delle cose premium che si fa con Zapper ovviamente ci vuole almeno il pacchetto il primo pacchetto a pagamento perché è una delle cose delle feature pro per il resto noi ci vediamo al prossimo video ricordati che se vuoi imparare nel dettaglio digital marketing e tutte queste cose qui io ho aperto insieme ad altre 4 persone una community che si chiama Digital Builders trovi il link in descrizione per comprendere al meglio come puoi aderire a questa community noi li insegniamo alle persone a lavorare online a guadagnare online attraverso business sul digital marketing quindi se vuoi in descrizione trovi tutti i dettagli e trovi anche il link per il miglior percorso di formazione SMMA social media marketing che è quello che personalmente reputo il miglior modello di business per iniziare nel 2020 soprattutto senza soldi quindi per il resto noi ci vediamo al prossimo video lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi di questi contenuti quindi se ti è utile e se hai delle domande ciao a presto a presto a presto a presto a presto a presto Grazie.